Sabato 30 luglio si è tenuta a Bellari Gemmarina l'attesa Beach Run, uno dei tanti eventi dei Beach Games organizzati dal Consorzio Verde e Blu. Ospiti e testimonial, due campioni della maratona, Laura Fogli e Pier Giovanni Poli. È un piacere essere qui in questa manifestazione, organizzata tra l'altro molto bene. Adesso vediamo quanti sono i partecipanti che si misureranno in questa iniziativa, che vede un abbinamento asfalto-spiaggia. È una cosa interessante e sono curioso di vedere come i partecipanti apprezzeranno questo modo di concepire una gara. Poli, vincitore della maratona di New York nel 1986, ha corso insieme ad un altro testimonial dei Beach Games, L'ex pivò della nazionale italiana di basket è Roberto Chiagic, Argento ai giochi olimpici di Atene. Lo faccio con divertimento, penso che sarà una bella giornata, sarà una cosa da fare tutto in compagnia. Non sono solo, sono seguito da altri amici che correranno con me, quindi penso che sarà una cosa divertente. L'anno scorso è campione del torneo 2 contro 2 del Bellari Basket, campione anche dell'europeo, medaglia d'oro. Qual è l'emozione più grande, vincere la medaglia d'oro o vincere il torneo del basket del Bellaria? Sicuramente il torneo del basket, ho visto l'anno scorso e ho vinto una gioia immensa. Tra i corridori anche Risto Zlatanovi, il campione della Copra Piacenza di Pallavolo, altro testimonial di prestigio dei Beach Games. Quando si trova anche tra vecchi amici, ex compagni di squadra per partecipare a questi eventi in spiagge, è molto bello e carino. Poi penso sia anche divertente per la gente che partecipa di fuori. E la competizione com'è? Forte o si scherza, si ride e basta? No, si scherza e si ride, però il vero atleta quando scende in campo vuole sempre vincere, anche se in maniera amichevole. Un pomeriggio di corsa, circa 900 partecipanti con partenza ed arrivi al polo est di Gea. Grazie a tutti.